Ugo, non sappiamo se tu sia un appassionato di film, però sappi che noi siamo pronti per entrare nel vivo del nostro Open Day Cinema. Adesso, fra due minuti, però, ci sarà la presentazione ufficiale, quella che faremo anche in diretta a radio, la faremo anche sulla nostra app in FM, insomma, visto che non so da che parti si trovi Manuela Ventura, però vogliamo abbracciare anche l'altra fetta di Sicilia con le nostre voci, poi attraverso questi altri strumenti riusciamo ad arrivare. Manuela, già ti vediamo, buongiorno! Ciao, ciao, buongiorno, che bello! Come stai? Che gioia che ci dai, Manuela! Ormai ti sentiamo parte integrante di Open Day Cinema. Infatti è come tornare a casa. In questo momento comunque alla domanda di Eliana rispondo sono catanese, per cui Oriente e Occidente si abbracciano. Assolutamente, sì, con immenso piacere poi tutto questo. Che cerchi? Ed è vero! Che cerchi? Che ti prepari? Cerco sempre tanto su Manuela, anche se in realtà ho scavato a fondo sulla sua carriera professionale, ed è sempre bello e avvincente quando ti parlano delle iniziative, dei film, della serialità. Ah, ma c'è anche Manuela Ventura. Ma che bello! È il caso che è successo la scorsa settimana con Isabella Leone. Abbiamo detto no, dobbiamo riprendere Mascaria a pochi giorni dal debutto. e mi fanno cenno dalla regina. Siamo pronti per unificare i segnali. Dacci un secondo così facciamo la presentazione ufficiale e anche chi in questo momento sta ascoltando la musica sarà partecipe della tua presenza, di mascherie, di tutto ciò che di bello racconteremo d'ora in avanti. E ci piace questo sound anni 90 con la voce di Gabriele che ci riporta all'interno di Radio In. Open Day Cinema inizia ufficialmente adesso con la prima straordinaria ospite e un graditissimo ritorno di questa giornata. Assolutamente sì, benvenuta Manuela Ventura protagonista di Mascaria film per la televisione che andrà in onda in un giorno particolare in un giorno che per noi significa dolore ma anche e soprattutto riscatto è Mascaria in prima serata su Rai 1 benvenuta Manuela. Grazie mille, grazie sempre per l'accoglienza buongiorno a voi, buongiorno a tutti coloro che ascoltano e vi ringrazio per questo spazio perché è un'occasione sì per ritrovarci e salutarci e anche per parlare di un progetto al quale ho partecipato con grande emozione e anche come ricordavi tu Ivan per il fatto che sarà mandato in onda in concomitanza con la giornata della legalità il 23 maggio su Rai 1. Senti Manuela, mi hanno molto colpito le parole di Isabella Leoni la regista venerdì scorso quando l'abbiamo intervistata ha voluto sottolineare il valore aggiunto di un cast in prevalenza siciliano che si è talmente appassionato al tema che è stato proposto che non è ahimè un tema nuovo parliamo di pizzo, parliamo di estorsione parliamo della storia che può diventare e può replicarsi purtroppo in tante situazioni incresciose e quando tu dici appunto mi sono emozionata la tua partecipazione ho visto le clip che ci ha mandato Raffaella Spizzichino dell'Ufficio Stampa è veramente intensa Manuela ti sei coinvolta abbastanza in questo progetto sì assolutamente allora prendo spunto appunto da questo riferimento fatto a Isabella Leoni perché c'è uno step prima di iniziare a girare a dare vita ciascuno ai propri personaggi che appunto è la squadra con la quale si inizia a lavorare e quest'occasione è stata fortunata proprio perché guidata da Isabella Leoni che ha selezionato insieme ad Adriana Sabatini un cast meraviglioso non soltanto per le qualità artistiche ma per l'impegno umano che ciascuno ha rivelato durante la lavorazione del film primo fra tutti Fabrizio Ferracane compagno di lavoro per me meraviglioso e poi anche insieme ad una troupe tutti i reparti che si è mostrata solida compatta appassionata per cui questo ci ha permesso di fare un lavoro di squadra e di entrare all'interno di una storia liberamente ispirata a fatti realmente accaduti cercando di restituire con responsabilità e compassione quelle vicende Manuela è verissimo io direi se Eliana è d'accordo abbiamo preparato due clip tratte dal film le vedremo tutte e due spalmate ah ok perché se voi ce la facciamo a mandarle tutte no no piano 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 allora dai iniziamo con la musica metabolizziamola per chi ascolta la radio per chi ascolta l'app si parte dalla musica è arrivato il momento di ascoltare Amy Winehouse che tra l'altro a proposito anche attraverso un film è ritornata in auge negli ultimi tempi e questo è questa è la sua intramontabile Rehab e da qui possiamo continuare siamo in diretta streaming sulla nostra pagina di Facebook vediamo il primo dei due video così entriamo in questa atmosfera di mascaria e poi lo commentiamo insieme allora con la mamma stiamo pensando di trasferirci tutti quanti e vogliamo sapere che ne pensate ma trasferirci dove? a Pisa ma che stai dicendo? ma io qui ho tutto ho i miei amici ho la mia vita non è che per forza questa è una cosa negativa questa è anche una cosa stimolante no? due amici due scuole mamma ma io non voglio cambiare maestra no amore ma non è che cambiare per forza è una cosa negativa eh poi non ci dobbiamo andare subito prima andiamo a vedere questa casa zio Giacomo dice che è bellissima sai poi se ci piace alla fine dell'anno scolastico ci trasferiamo pensavamo questo vabbè ma se già avete deciso perché ce lo state chiedendo? che? non rispondete? grazie eh io esco Riccardo Riccardo dove vai? dove vai Riccardo? ha le otto e mezza la casa lasciamolo stare sì e ti devo raccontare questa scena Manuela perché ci davano indicazioni dalla regia Ivan non ascoltava Ivan Ivan e scusate mi ero fatto prendere dalla clip ero nella scena ed era lì assorto ero con voi a tavola Manuela con noi a tavola insieme a questa bellissima famiglia che è poi una famiglia tradizionale siciliana dove il pater familias sta sempre a capotavola gli sguardi intensi e accattivanti sempre di un Fabrizio Ferracane che ogni volta supera se stesso con quella umiltà Manuela che vi contraddistingue permettimi di accomunarti alla bravura e al talento di Fabrizio poi tu sei una che ha un percorso meraviglioso da un punto di vista artistico e professionale diciamo che per te è stato quasi normale conservati il domandone perché ti ricordo che fra 30 secondi facciamo lo switch se no poi io sono quella cattiva che la deve interrompere quindi ti chiedo io in 30 secondi perché hai scelto proprio questa clip per iniziare perché ho scelto questa clip ma probabilmente mi riporta un po' all'infanzia Manuela io vengo da Enna quindi vengo da un'entroterra anche la scenografia è scarna è fatta proprio di mobili dove l'interazione anche tra papà mamma e figli è sempre un'interazione magica no Manuela anche molto gerarchica perché c'è anche quell'aspetto che viene fuori non so quanto è rigorosa non so quanto oggi nel 2024 si rispecchi in tante famiglie e questa era la domanda scusami guarda facciamo lo switch così le fai la domanda torniamo subito in radio dacci un istante stacco Amy Winehouse ci lascia dandoci lo spazio per tornare a parlare di mascherie in diretta streaming abbiamo visto uno spezzone in particolare una sequenza di questa famiglia seduta a tavola c'è Fabrizio Perracane ci sono Manuela Venturi i genitori di questa famiglia che devono dare una notizia forte ai figli una notizia di un grande cambiamento e lì Ivan a te questa domanda per la nostra ospite no era la magia delle famiglie tradizionali dove il rigore del pater familias poi si riversava sui membri e appunto Manuela sono un po' curioso Eliana mi prende spesso in giro perché ho una proiezione registica nella vita più che giornalistica ma chissà saranno gli ultimi anni di centro sperimentale che mi hanno un po' cambiato ecco raccontacela questa scena che abbiamo visto e come l'avete vissuta in termini appunto di contesto artistico e familiare ci troviamo in uno dei momenti in cui tutta la famiglia è riunita Pietro Ferrara protagonista di questa storia Mimma sua moglie e poi i tre figli si distingue tra i tre appunto in questa scena perché prende di più la parola Riccardo che condurrà anche lui da protagonista nella storia che raccontiamo è un momento particolare perché oramai le minacce alle quali Pietro Ferrara è che subisce diventano sempre più pressanti e quindi Mimma che con uno sguardo più lucido magari guarda quello che sta avvenendo con la preoccupazione che tutto questo comporta volendo proteggere il marito e i figli desidera cambiare vita propone al marito andiamo via qui rischiamo perché adesso ti hanno conciato in questo modo perché Pietro ha subito un'aggressione ma qui non è più dice Mimma una questione di quanti soldi o meno vengono dati è una sete di potere di ingiustizia di male che probabilmente non si fermerà e dicono i figli che si trasferiranno in un'altra città e naturalmente questo crea un momento di tensione perché i figli in un momento importante della crescita le amicizie la scuola non capiscono anche perché i genitori in quel momento non danno degli elementi concreti per motivare questa scelta e Pietro è comunque perplesso Mimma cerca di abbozzare un po' di alleggerire anche col figlio piccolo la motivazione di una scelta così drastica ma capiranno insieme i genitori che probabilmente andare via non era la soluzione giusta per cui vedremo nel corso del film che in realtà dopo l'atto di coraggio di Pietro cioè la denuncia del sistema estorsivo mafioso sceglieranno di combattere di lottare proprio lì dove avevano immaginato di costruire il proprio futuro sono temi che ti toccano nel profondo e mentre Emanuela raccontava appunto questa scena questo contesto e immagino anche il tanto il travaglio che si vive spesso fra le mura di casa con la paura anche di denunciare perché ti spaventi poi che ti bruciano il negozio ti spaventi che ti bruciano l'escavatore la cronaca è piena di questi fatti Emanuela ma voglio tornare proprio anche al racconto della regista dove vogliamo tornare noi? a vederci la seconda clip ci può fare questa cosa se vuoi facciamo anche un po' di saspetto il mio flusso è il tuo flusso è interrotto dai tempi della radio perché noi dobbiamo dare qualche minutino di informazione qualche minutino di musica allora questo è il momento di Tananai con la sua veleno non è colpa mia è così che funziona non ci posso fare niente io sto qui a posto per riportarti su questo pianeta radio ancorarmi sfogati vediamoci la clip vuoi vedere la clip adesso? voglio immergermi in questa seconda clip e allora guardiamo anche quest'altra clip e vieni ma perché siamo qui qua? perché qua a 16 anni mi hai dato il primo bacio te lo ricordi no? certo che me lo ricordo a 16 anni tiravo picciotti come ci batteva a porto il cuore sì sembra un'altra vita eh vabbè poi va tutto più facile ma siamo ancora qua ancora insieme no? ho capito ma non me ne frega niente quanto vi adoro Manuela quanto vi adoro posso aprire un fan club? Ferragane Ventura ma quanto ti batteva il cuore a girare questa scena mentre giravi? questa è la domanda romantica di Ivan esatto moltissimo perché per me guarda incontrare Fabrizio sempre sul set io mi fermerei e starei lì a guardare cioè starei lì da spettatrice a guardare quello che fa ma siete più meravigliate entrambi poi mi capita di poterci lavorare di interpretare dei ruoli accanto a lui comunque c'è una grande sintonia abbiamo ci siamo parlati molto per creare la relazione tra questi due personaggi tra l'altro una relazione appunto delicata perché ad un certo punto della storia Pietro comincia ad andare da solo in qualche maniera e Mimma con i suoi strumenti che sono quelli appunto della comprensione dell'amore della vicinanza cerca di riportarlo a sé a questa unione per dirgli fidati stai con noi perché vede i cambiamenti e i turbamenti cioè vede lo sguardo sperso di questo marito che si sobbarca addosso veramente qualcosa che non avrebbe mai pensato di dover affrontare nella vita il fatto è proprio questo che sono delle situazioni nelle quali ti trovi non c'è una scelta tua iniziale da lì poi si innesca tutto un meccanismo che coinvolge la famiglia che coinvolge l'entourage coinvolge tutti quanti noi continuiamo a parlare fra pochissimo abbiamo un break pubblicitario e poi continuiamo insieme abbiamo questi tre minuti prima che vi interrompo io lo dichiaro prima così nessuno poi può dire ah ma come abbiamo tre minuti di tregua prima di ritornare a questo mi incuriosivo anche chiederti un altro aspetto Manuela perché ne abbiamo parlato con la regista e quindi è un po' come vedere il rovescio un po' della medaglia tra sicilianità e non sicilianità no? e quindi il rapporto con questo tipo di storia perché è una storia di questa terra ma è una storia che può essere anche il ritratto di tante altre legate ad altri fenomeni criminali e che quindi si può purtroppo si è ripetuto nella storia e si può ripetere in altri luoghi in altri tempi ma voi come avete vissuto da siciliani questo tipo di narrazione? allora io sicuramente posso dire in maniera soggettiva che sono delle storie della terra nella quale sono nata con le quali sento una vicinanza di responsabilità e quindi sento anche la necessità che vengano raccontate il fatto che il cast sia prevalentemente siciliano ha un valore in più perché è un modo per impegnare persone artisti di questo territorio anche per esprimere una propria posizione anche se attraverso un film e dei personaggi però in qualche modo stiamo dicendo delle cose cioè aderiamo almeno io mi sento di dire questo di aderire a una visione delle cose a una visione del mondo da siciliana quindi cerco di mettermi da una certa parte piuttosto che da un'altra l'altro aspetto è vero che documentandoci sono storie queste che in maniera trasversale toccano tutto il nostro paese mi stupì tempo fa leggere di una storia praticamente identica avvenuta nei pressi del Bresciano ma praticamente identica ora non si chiama Pizzo si chiama Tangente non si chiama mafia si chiama Andrangheta quindi purtroppo no cioè la riflessione va fatta proprio su un tipo di cultura che difficilmente ancora lascia il passo ad un'altra che è quella appunto della legalità e dell'onestà cioè c'è un tasso di corruzione ancora importante ed è per questo che un film come Mascaria come tanti altri serve come dire sai come delle picconate per cercare di martellare questo muro e questo mal costume che è diffuso la possiamo ripetere anche a chi non ha sentito questa parte questa conclusione ma mi pare lo switch un'altra storia è il brano che abbiamo appena ascoltato mentre abbiamo su Facebook avuto l'opportunità di sentire una riflessione di Manuela Ventura bellissima ovviamente siamo in diretta ma il video rimarrà a vostra disposizione anche dopo Manuela una riflessione bellissima che portava a una conclusione ancora più intensa il 23 maggio in prima serata sul Rai 1 andrà in onda mascheria e tu dicevi è un'occasione per martellare e scalfire un muro fatto anche di illegalità che è trasversale non è solo siciliano ma ci sono altri episodi che con altri nomi accadono anche in tempi diversi non per forza negli anni 90 ma anche purtroppo oggi in altri luoghi d'Italia ed è importante questo messaggio ed è importantissimo che vada in prima serata è importantissimo che ci si riconosca non nel malaffare siciliano ma in una cultura della legalità che deve essere portata anche attraverso questo monito grazie Eliana anche per la passione con cui stai riportato il pensiero e grazie ad entrambi perché sì ecco non bisogna lasciare troppo spazio al silenzio bisogna per come è possibile quando è possibile infilarci nelle crepe di questo muro per dire per continuare a tenere accesa l'attenzione e anche per non sentirci soli cioè per provare a lanciare un filo al quale chi vuole chi la pensa in un certo modo può sentirsi unito attaccato e creare una rete anche attraverso le possibilità che l'arte in qualunque forma essa sia può dare lo ha ricordato il presidente Mattarella nella presentazione dei Davide di Donatello quanto possa essere importante un messaggio trasmesso attraverso il cinema i film tv l'arte in generale e a questo dobbiamo credere io ci ho sempre diciamo io ci ho sempre creduto in forme e gradazioni diverse da quando ero piccola ho sempre riconosciuto al nostro mondo un valore concreto non soltanto di sogno anche se il sogno ha il suo valore comunque ma un valore concreto di poter perché ha inciso nella mia vita cioè mi ha fatto capire tante cose mi ha fatto capire da che parte volevo stare perché risuonavano dentro di me l'augurio quindi è che questo film come altri possa suscitare emozioni sicuramente e riflessioni e non solo nei giovani che hanno bisogno che certi racconti arrivino alle loro orecchie perché magari non li hanno vissuti ma che gli adulti capiscano che devono farsi esempio e gli adulti in tutte le sfere i singoli cittadini donne uomini e chi ci rappresenta all'interno delle istituzioni perché gli esempi ci vengono anche da lì e dovrebbero come dire valutare l'importanza e la risonanza che poi hanno all'interno della società civile ed essere virtuosi in questo senso perché anche così si difende un sistema di legalità che non è soltanto un sistema giuridico fatto di leggi ma è proprio un sentimento culturale civile e sociale signor giudice io non ho nulla da aggiungere oddio scusate magari ci metto alle spalle questa tua foto in tribunale grazie Emanuela ci siamo fatti cassa di risonanza e amplificatore di questi temi spero tu possa girare le scuole e partire dai ragazzi dagli studenti per questa cultura della legalità e per spingere anche i tanti che il 23 maggio in quella giornata così particolare e così purtroppo storicamente ricordata possano uscire dall'isolamento e dal silenzio e possano denunciare Ma basterebbe che anche in questi giorni venisse data come indicazione domani sera a casa guardate questo e poi l'indomani ne parliamo a scuola no? Basterebbe anche un'indicazione in questi giorni fatta fra i banchi di scuola per poter dare il là ad altre riflessioni che in Sicilia sicuramente in questi giorni si fanno in maniera massiccia sono tantissime le scuole coinvolte per la giornata della legalità tante altre scuole nel resto d'Italia vengono coinvolte e arrivano anche a Palermo non so quanto a tappeto questo accada però quando sulla rete ammiraglia hai l'opportunità di della RAI hai l'opportunità di vedere quindi un film di questo tipo è anche questa un'occasione da sfruttare proprio per vedere anche un'altra storia un'altra storia un'altro dicevi Manuela? Sì e anche per vedere quello che che significa per chi decide come Pietro Ferrara di fare la cosa giusta di denunciare qual è poi il costo umano che c'è dietro tutto questo e quanto c'è quindi di una rete di protezione fatta di affetti di legami di amicizie di relazioni ma fatta anche dal sostegno delle istituzioni quello è fondamentale determinante per far sì che altri non demordano perché se si sentono protetti e sostenuti è sicuramente un incitamento maggiore e l'altra cosa che volevo aggiungere a proposito appunto del 23 maggio che ricordiamo che è giornata della legalità che è ricordo della strage di Capaci che è quindi dolore per quella incredibile tragedia però è stata altrettanto nel mio ricordo un momento da ricordare secondo me insieme della reazione che la società civile ebbe ma proprio nell'immediato io mi ricordo senza bisogno dell'influencer dell'opinion leader è stato di di cuore di pancia io senti non c'erano i telefonini senti la notizia alla radio scesi dalla macchina mi senti perduta in quei secondi dopo poco ci ritrovammo con amici e amiche in piazza senza troppe parole ma avevamo il bisogno di stare insieme esatto e manifestare questo no no non ci sto eravamo proprio sì addolorati affranti con le gambe che tremavano ma tutta la popolazione che si riversò in viano tarbartolo le lenzuola bianche stese dico questo è un valore cioè questo è come dire è una forza è una forza più grande in parallelo a quella deflagrazione perché anche quella fu una esplosione non solo di rabbia ma proprio di convinzione di quella parte della società che si vuole mostrare per quella che è che viene spesso taciuta cioè non raccontata una reazione del genere perché una presa di posizione così di massa del popolo non c'era non c'era stata di chi non si sentiva più di poter stare in silenzio di chi non voleva sentirsi complice stando in silenzio ma anzi voleva far valere le proprie ragioni è la settimana in cui queste riflessioni vanno fatte più che mai è la settimana in cui bisogna riflettere pensando anche alle responsabilità che hai in questo mondo civile quando vai alzeggio elettorale per esempio perché una cosa è dire a noi basta una cosa poi è disinteressarsi della cosa pubblica come se fosse questione di altri sono in realtà tutti i temi molto vicini fra loro e bisogna bisogna fare molta attenzione perché ovviamente dalle nostre scelte che possono essere un far finta di niente che possono essere un a consentire a che un altro possa fare di me quello che vuole del mio lavoro può essere una scelta fatta in cabina elettorale per una cortesia per un pacco di pasta o qualche altra cosa alla fine purtroppo tutto questo va a definire la società in cui viviamo e quindi dovremmo in ogni momento della nostra vita avere questa consapevolezza e questo senso di responsabilità che deriva da ogni nostro gesto ci chiedono la linea dalla redazione abbiamo sforato di 5 minuti chiediamo scusa ai colleghi giornalisti ma ovviamente l'appello di Manuela Ventura diventa il nostro diventa quello di tutti i nostri ascoltatori grazie grazie Manuela e saremo lì a sperare di fare un record d'ascolti grazie mille di cuore a tutti grazie Manuela Ventura un abbraccio ciao le news di Radio In arrivano subito mentre vi ricordiamo ancora una volta che l'appuntamento con Mascaria di cui vi abbiamo parlato con il protagonista Manuela Ventura ma anche abbiamo parlato di Fabrizio Ferracane andrà in onda il 23 maggio quindi dopo domani sera su Rai 1 in prima serata ed è un appuntamento da non perdere così come da non perdere sono le notizie di Radio In Grazie a tutti Grazie a tutti